Ma buona a tutti amici e ben tornati sul mio canale, io sono Furabintendo e oggi siamo tornati su Super Smash Brothers Ultimate Il secondo episodio, l'ultima volta ci eravamo fermati qui a questo ostacolo dove c'era da scegliere tra Shake e Chrome se non sbaglio e abitante Io sono andato per abitante e adesso andiamo avanti Siamo contro a quanto pare Wendy e Tron Bon, spirito Tron Bon Formazione un attimo perché Mario mi ha leggermente stancato, vai Allora vediamo un po' cosa ci riserva oggi Direi di usare un pochino abitante se pensate Adesso cambia un po' il colore, direi di mettere questo qua che a me piace un sacco questo qui, devo dire Vai All'attacco contro Wendy Koopa E la sua E il suo spirito Tron Bon Vai Uh è contro anche dei roba a quanto sembra Bene vai 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 piantiamo un alberello E adesso Tac Mari Vai No l'ha schivato Dannazione Mari Fuck you Vai ok Cavolo vai No Mori Sì la rivittoria è nostra amici Vai abbiamo tenuto Tron Bon Ok vai continuiamo Ragazzi questa Let's Play mi sta veramente molto entusiasmando Ve lo dico subito Bene andiamo avanti Uh La ragazza Inkling siamo contro Chissà che cosa ci riserverà Formazione No No All'attacco direttamente Che hai scelto se attualmente svantaggio vuoi Allora la sfida No allora cambiamo allora va A sto punto Allora cambiamo Mettiamo questo va Questo sembra molto potente Vai Sì però mettiamo un po' Allora formazione No Come dovevo fare Non mi ricordo più Ah sì ecco potenza Vai Andiamo un po' E andiamo un bel po' Ecco Così dovrebbero abbassare Bene ragazzi Direi che siamo pronti Contro la ragazza Inkling E lo spirito Octoling Andiamo Sì vai Sì affrontiamo comunque Contro Octoling Ok vai sono pronto Tanti ragazzi Inkling A quanto pare Ok vai Piantiamo l'albero Adesso No Scusi Vai 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 La strage Alcuno andrà morto Pare di no Vai il trapano Vai super trapano Vai Ok una è andata Vai 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 Mori No Mai mori, 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 mori ce l'abbiamo fatta Sì Abbiamo preso Octoling di Spirito, sembra forte Ok Beh ci stiamo muovendo alla grande direi amici Ok, corriamo verso questo stadio Siamo contro Baglionetta Formazione Perché questa musica di pianoforte? Vabbè, non importa Ok, adesso all'attacco ragazzi Prepariamoci Prepariamo a liberare un altro Vabbè, non a liberare però Contro Baglionetta e lo Spirito Giuri Oh, ma è fa Oh, ma mamma mia la CPU Ok Forse è meglio usare un po' gli attacchi con B Mamma mia Veramente potente questa Allora Porco Porco schifo Devo stare a tempo Vai Fuck Ci ha uccisi Peccato Rivincita vai Cacchio però New Pork Ah, perché Porky Sì, sì Vai, dottor Mario Sì, va bene Oh, ma è fortissima questa Che cavolo Ok, va bene Vai, vai, vai Vai, vai Oh, non riesco a prevederla Riesce anche a oltrepassare il mio missile Ok, allora Aspetta Scusate se non parlo ragazzi Però sono veramente concentrato Ok, va bene Vai, vai, vai Questa cosa sarebbe meglio vincerla ai punti Ai punti E cacchio siamo in punch out Ok Vai, vai, vai Stavolta sta andando benissimo Perché non carica più? Oh, ma non vale però Oh, dai però, dai Non vale Allora Allora Porca vacca Porca Eva Spero che qualcuno di voi non si chiami Eva Spero Scusate se non parlo pure se parlo un po' male Però sono veramente concentrato Allora Allora È veramente fortissima questa Dobbiamo andare di santa ragione proprio Ok Vai, vai, vai Cacchio Come hai fatto? Meglio fare così va Difesa e poi colpire Oh, ma questa cosa è veramente forte Spero che sia forte veramente No, 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 dai No, no, no Non di nuovo però Eh, dai Ma non di nuovo Oh, ma veramente sto failando così tanto? Allora Allora Mannaggia la miseria Ma dai Ma è una difesa Ma come hai fatto? Ma come fa Ma come fa a colpirmi? È una difesa Ma come fa Ok, vai, 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 spamma, spamma, spamma Vai, 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 pugni, pugni, pugni Avrei dovuto scegliere Kirby contro questo boss È molto più facile da usare Vai, 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 vai Dai che manca pochissimo No, dai, mancava poco, dai, mancava poco Mannaggia questa Allora, cos'è che faccio di sbagliato? Scusate ragazzi per questa parte però, veramente Ma come fa? C'è una cosa, va? Esci, dobbiamo organizzarci meglio No, cambia formazione Dobbiamo riprovare, scusate ragazzi però Devo cambiare personaggio assolutamente eh Devo mettere Kirby Perché veramente questa Questa baionetta è veramente fortissima Vediamo Kirby blu che mi piace di più Non so perché Se Kirby fosse viola sarebbe ancora meglio Se mi piace il viola, non dite niente Mi piace il viola Vai, contro baionetta e giuri, vai Di nuovo Oh ma questa qua schiva sempre Che cavolo Oh ma te stai un attimo ferma? Vai Ok No, non riesco a prevederla E dai Porca vacca Ma cosa che faccio di sbagliato? Mamma mia No, non riesco a prevederla No, non riesco a prevederla No, non riesco a prevederla Mamma mia Vai 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 No dai come ho fatto a schivarlo Ma la cipio non dovrebbe essere normale Oh sempre il telpismo sbagliato Mannaggia Oh no mi rifiuto di perdere adesso Oh ma se Ma dai Ma dai però Ma sempre all'ultimo Questo episodio probabilmente si chiamerà sempre all'ultimo Mannaggia la miseriaccia Sai che in questo episodio faremo soltanto uno scontro Oh no Grazie a tutti. 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 Intanto salviamo eh ragazzi. Scusate se in questo episodio sono stato più zitto, però è stato veramente difficile questo. Scusa, ok. Ragazzi, basta. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e noi amici miei ci rivedremo presto. Ciao.